Eccoci, eccoci come è stato, un saluto a tutti, ben ritrovati, una buona serata, un buon weekend, dai ci siamo, vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto, di lasciare un bel like, partecipate attivamente alla community, sfogatevi se vi va, sempre con civiltà e con rispetto, e iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, siamo quasi 105.000, mamma mia quanti, qui sotto c'è il mio canale personale, vi aspetto anche lì, ci tengo ragazzi, mi raccomando, breaking news soprattutto di Milan, e poi seguiteci anche su spotty, qui sotto c'è il link. Per collaborazioni commerciali, promuovere un'idea, un prodotto, un'azienda, un marchio, una pagina, milanerolive.gmail.com Oggi c'è stato l'incontro a Milano, tra Milan, Inter, Sala e WeBuild, i cui rappresentanti hanno detto che è presto per parlare, si cerca di portare avanti appunto il dossier ristrutturazione soft di San Siro, con due tavoli aperti, quello per San Donato, stadio soltanto nostro, ma davvero soltanto nostro e nuovo, e stadio invece di San Siro ristrutturato, non nostro, una via di mezzo, un compromesso, però condiviso sempre con l'Inter. E questo progetto comunque non è ancora naufragato, quindi ragazzi, busta A o busta B? Un po' quando ci sono quei cartoni animati e ci sono le porte, una c'è dietro la tigre, no? Qui, dove sarà la tigre? Ecco, cerchiamo di capire dove sarà lo stadio e poi vedremo dove sarà la tigre. Andiamo sulle novità, nel video precedente, ragazzi, senza peli sulla lingua, come giusto che sia, ho detto il mio pensiero sulla prestazione di ieri, sul momento, su Pioli, su quello che ha detto su Mignan che davvero non mi è piaciuto, su quel senso quasi, ecco, non l'ho detto nel video, però mi sembra quasi autogestione, cioè, perché se Pioli e Alena giocano così, io dico, boh, evidentemente ci sarà autogestione, perché se Alena è questo risultato c'è un problema. Poi, ragazzi, non lo so, io non sono prevenuto con Pioli, sono semplicemente esausto di questa proposta tattica non da Milan e di prendere gol da chiunque, anche da giocatori molto mediocri, da un tecnico che, ribatisco, non l'avevo mai visto in faccia, colpa mia, per carità, e che secondo me non scriverà pagi memorabili di storia, non gli auguro questo, per carità. Allora, andiamo però oltre al discorso campo e andiamo sul discorso societario e arabo. Innanzitutto, partiamo dalla dichiarazione di Furlani ieri, che, ragazzi, un bravo dirigente deve sapere anche comunicare, e, ribatisco, ogni volta che parla Furlani, a me, da un punto di vista comunicativo, convince, zero. Sulle parole di Jerry Cardinale, da Financial Times, ha detto, ero con lui a Londra, invito tutti a vedere l'intervista in inglese, lui ha parlato di innovazione, di guardare avanti, di crescita, sono tutte cose belle, non lavoriamo per migliorarci. Sì, è l'intervista in inglese, abbiamo letto anche la traduzione in italiano, non credo che ci sia chissà quale problema. Detto questo, poi, prosegue sul tema possibile ingresso di finanziatori arabi. Ecco qui il passaggio. Dice anche io e Ibra lavoriamo in piena sintonia. Ibra, ieri ha parlato lui, perché era uscito un po' dai radar, per cercare anche di zittire certe voci attorno al suo futuro. Ebbene, su Ibra io e Zlatan lavoriamo in gruppo di lavoro, lavoriamo in piena sintonia. Ibra porta tante competenze, è stato un campione in campo, lo sarà anche fuori dal campo, sono fortunato a lavorare con lui. Beh, nulla di che. Sulla possibile, sulle voci, sul possibile ingresso di nuovi soci. Lui risponde così. Noi lavoriamo per portare risultati per il Milan. Ti sto chiedendo cosa hai mangiato oggi e mi dici c'è il sole. Che c'entra noi lavoriamo per portare risultati per il Milan? Vabbè. Sono tutte speculazioni, non c'è nulla di vero, stop. Frase laconica, rapida. Stringente e stringata. Però, ecco, secondo me c'è anche modo e modo di smentire. Se tu vuoi smentire, ed è ovvio che smentisca, smentisci magari diversamente. Cioè dire che sono tutte speculazioni, non c'è nulla di vero. Va in contraddizione anche con quello che ha detto Cardinale otto giorni fa, non mi ricordo il giorno preciso, la Financial Times. Cioè che cerca con interesse nel mondo arabo qualcuno che investe nello stadio o sponsor, vabbè questo ovviamente è molto secondario, o investitori, soci di minoranza. Quindi è Cardinale a dire cerchiamo soci di minoranza e adesso si parla di ingresso di soci, speculazioni. Spieghiamo a Furlani, che l'ha detto il suo proprietario, che c'è questa possibilità. Sono tutte speculazioni, non c'è nulla di vero. È una smentita, ovviamente di facciata, ma che ti lascia poco. A me lascia il senso del, ragazzi, come comunicatore, sarà un bravissimo manager, fuori dal calcio. Secondo me nel calcio no, è un ostegista nel calcio. Ma se proprio devi smentire, smentiscilo con argomentazione, con fermezza, o senza dire su tutte speculazioni non c'è nulla di vero. Quindi, ne ha parlato anche Cardinale, c'è questa possibilità, vedremo. Davvero io rimango basito. Anche sul modo in cui si cercano di dire certe cose. Dopodiché, come scriveva giustamente oggi la Gazzetta, ma se fosse vero direbbe il contrario. No, quindi, vabbè, andiamo avanti che è meglio. Detto questo, ci sono altre novità. Intanto, ieri commentavamo sul profilo LinkedIn questo personaggio vicino al governo saudita, Moaid Maishbu, che scriveva PIF è vicino a completare l'investimento nel club italiano del Milan. Io ribadisco ancora una volta, ci sono due gruppi. Uno è PIF e poi c'è un altro gruppo. Sono due. Vedremo che cosa accadrà. Detto questo, io spero che si realizzi un ingresso, quantomeno con la minoranza, che è il primo passo poi per metterci dentro tutto il corpo, anche l'altro piede ovviamente. Ebbene, però, da che tutte balle, tutte balle, adesso ne parlano tutti. E vediamo cosa succede. E ribadisco, non è solo PIF, c'è anche un altro gruppo. E vedremo chi la spunterà, se qualcuno la spunterà. A questo post su LinkedIn, di questo membro vicino al governo saudita, che aveva anche delle foto di cordialità con il ministro dello sport, e tra l'altro molto amico di Paolo Maldini, così sono curiosità social. Però ecco, Filippo Sona ha messo like. Voi direte, chi è Filippo Sona? È un membro del CDA, di PIF. Non è, come mi spiegava l'amico, collega, giornalista dell'Arabia Saudita, non è un decisore, lui mi ha scritto questa parola, aspetta responsabile di investimenti esteri decidere se investire o no sul Milan, ma è un membro del CDA, quindi potrebbe essere una conoscenza. Così come un altro like di, Ali Salman Al-Nahyad, che è, mi dice, il collega, è il leader del gruppo di gestione dei progetti presso Saudi Aramco, anche qui società della famiglia PIF, del governo saudita, riconducibile al fondo sovrano dell'Arabia Saudita. Quindi, se non altro, arrivano like, che possono dire nulla, possono dire qualcosa, però evidentemente qualcosa sanno, visto che sono nel CDA di PIF, seppur non sono quelli che decidono, e l'altro è comunque nel progetto di Saudi Aramco, come leader del gruppo di gestione dei progetti. Detto questo, vedremo, se si realizza, se non si nerealizza, se Cardinale non molla, se quelli vogliono entrare con la maggioranza e non si accontenta la minoranza, salta al banco, bisogna aspettare un po', bisogna aspettare un po', però, ecco, c'è PIF e c'è un altro gruppo. PIF c'è, anche se gli smentitori seriali smentiscono che ci sia PIF, e utilizzano anche termini che secondo me sono anche un po' poco rispettosi dei colleghi, però, vedremo un po' se accadrà che entrerà PIF o non entrerà PIF, se entrerà PIF verranno clamorosamente sbugiardati, se non entrerà PIF è perché non ci è riuscito a convincere Cardinale oppure ha vinto l'altro gruppo oppure non voleva entrare con la minoranza. Poi, proseguendo, il weekend è molto importante, un weekend in cui il jet set internazionale si reca a seguire il Gran Premio nella città di Jeddah, in Arabia Saudita, occasione di ritrovo per tanti potenziali anche investitori nel Milan, cioè lì ci sarà il gota di PIF, degli altri gruppi arabi che hanno possibilità di investimenti importanti e che guardano con interesse anche al calcio. La curiosità, non ci sarà soltanto Cardinale come scritto ieri da Repubblica, quindi sarà l'occasione per fare un F5, riaggiornarsi sul discorsi con potenziali investitori nel Milan, tra cui PIF, ci sarà anche Zlatan Ibrahimović e Ibra non è che va lì perché gli piace la Formula 1, Ibra va lì perché è una figura comunque di richiamo o per il marchio Milan è una figura decisamente più spendibile rispetto a quella di Cardinale e ci sarà anche Paolo Maldini. Paolo Maldini perché è lì? Paolo Maldini perché, come vi dicevo, negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi mesi, ha stretto relazioni molto importanti con il management dello sport in Arabia Saudita. È diventato molto amico del ministro dello sport e di fatto anche lui, ripeto, ha relazioni importanti tant'è che è legato a uno dei due gruppi che vorrebbe il Milan. Io mi aspetto che ci sarà un saluto con Ibrahimović. Sono curioso di capire se si incrocerà con Cardinale e quale sarà poi il... se ci sarà un saluto, se si ignoreranno, però ecco, vederli tutti lì nel perimetro del circuito di Jedda sarà molto, molto, molto interessante. Chissà che cosa accadrà, sarà importante però per sviluppare ulteriormente i discorsi che sono nel vivo e non sono speculazioni tutto falso come ha detto Furlani, smettendo di fatto secondo me anche un po' male il tutto. Quindi sarà molto, ripeto, molto, molto interessante capire che cosa uscirà da quel weekend automobilistico ma di fatto anche sportivo. Poi un'altra cosa secondo la stampa inglese il Liverpool sta pensando per sostituire il DS a Frederick Massara. Liverpool in cui c'è anche una partecipazione minima di Cardinale lo ricordiamo che penserebbe appunto a Massara e io dico come ho detto già in altri tempi che le mosse di Massara e di Maldini potrebbero essere una cardina attorno al sole molto importante su il possibile epilogo anche delle vicende. ripeto Maldini e Massara legati a un gruppo con anche Leonardo dicevo se Massara accetta la Roma la sensazione si parlava anche e se Maldini accetta la United la sensazione è che che non ci siamo per l'acquisizione della maggioranza e che è una cosa che magari si è complicata. se invece continuano a rifiutare e una e l'altra destinazione ecco c'è vita e c'è speranza che magari il loro gruppo possa spuntarla. Vedremo cosa succede su Massara che comunque ancora fermo è uno cui piace lavorare che voglia di tornare in sella e è molto legato a Paolo Maldini e a questo progetto di rientro nel Milan che non sembra imminente cioè sentendo Cardinale comunque non c'è un passaggio della proprietà imminente però è chiaro che se ci fosse un passaggio della proprietà imminente non ce lo direbbe neanche e che le trattative poi sai come nascono non sai come finiscono positivamente o anche magari in maniera negativa per questo vediamo un po' monitoriamo anche la situazione di Massara che però resiste Maldini non è andato allo United Massara non è andato alla Roma Massara vedremo se andrà al Liverpool oppure no io mi auguro di no vediamo un po' gli sviluppi e aspettiamo aspettiamo quello che accade tra l'altro forse domani mattina ci sarà un video di Martina di cui ho fatto delle domande lui risponde su questo tema e in generale appunto sul discorso di un passaggio di proprietà sperando personalmente che possa essere prima e non poi o quantomeno che tra marzo aprile qualcosa possa accadere magari con la minoranza ma che possa essere propedeutico una scalata nel Milan perché non vedo controindicazioni ragazzi passare da cardinale agli arabi è andare a migliorare decisamente sotto ogni punto di vista poi magari dedicherò un video anche a questo tema ditemi che ne pensate di tutto commentate numerosi lasciate un bel like iscrivetevi ripeto i like sono comunque like se io sono il membro del cda di piff e vedo che scrivono una cavolata mica ci metto un like a un altro ho scritto anche a mezzing mi pare per il resto furlani a me non dà quell'effetto lì che dici sta parlando furlani quando parla furlani scatenatevi lasciate un bel like iscrivetevi da questa parte vi rimando a video precedente ci tengo lo vediate su pioli e qui sotto iscrivetevi anche al mio canale personale grazie per chi lo farà anche su spot vi aspetto numerosi con mirco palo un saluto